È uno dei clienti della Maria Parissida sostanzialmente, una persona con la quale in realtà Maria aveva anche un rapporto sentimentale, un rapporto comunque burrascoso perché lei comunque continuava a cercare lui, lui che nel frattempo aveva trovato già un'altra donna e che voleva insomma avere un altro tipo di relazione. Ad un certo punto questo rapporto vira verso una richiesta estorsiva di lei nei suoi confronti, l'inacciando di rivelare il fatto che lui frequenta prostitute, lui sostanzialmente quella notte preso dalla rabbia la aggredisce e la uccide. Una lite per motivi di denaro, questo avrebbe scatenato la furia omicida di Federico Ferrini, la 37enne casentinese finito in manette per l'omicidio di Maria Venasio de Sousa, la 60enne brasiliana ritrovata senza vita lo scorso 26 agosto all'interno del suo appartamento in via della rabbia. La confessione dell'uomo è arrivata ieri sera dopo un interrogatorio fiume in questura. Gli investigatori sono arrivati a lui con indagini alla vecchia maniera incrociando i tabulati telefonici dei quattro telefoni della donna con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non è stato facile perché ovviamente era un contesto molto particolare, una casa d'appuntamenti, un intero stabile dedicato alla prostituzione in cui andavano avanti e indietro anche fino a notte tarda persone di ogni tipo. Federico Ferrini, imprenditore agricolo di Prato Vecchio, lavora nell'azienda di famiglia. Lui e la vittima si conoscevano dal 2017, un rapporto inizialmente tra cliente e professionista trasformatosi poi in una relazione sentimentale interrotta bruscamente, da qui liti e ricatti sfociati nella tragedia dello scorso 26 agosto. Era in appostamento davanti a quella casa già dalle 9 della sera prima, rimane sostanzialmente in appostamento fino alle 3.30, le 4, momento in cui l'ultimo cliente di lei esce, a quel punto lui decide di entrare, di affrontarla per chiarire definitivamente questa situazione, non avere più richieste da parte sua ma poi la situazione degenera e lui la aggredisce. L'assassino avrebbe ucciso Maria con tre colpi alla testa, poi le avrebbe stretto un laccio attorno al collo. L'arma del delitto, una sbarra di ferro che l'uomo aveva con sé. Lui a noi dice che quell'attrezzo gli serve per sostanzialmente forzare la porta nel momento in cui lei non dovesse aprire. Il fatto sta che comunque è l'arma del delitto perché è la sprenga con cui lui aggredisce lei. Il 37enne, accusato di omicidio volontario, si trova nel carcere Aretino di San Benedetto il prossimo lunedì, la convalida del fermo. Possiamo dire di aver risolto un caso che poteva suscitare inquietudi in una comunità pacifica come la nostra e che avrebbe mal tollerato, credo, un delitto che fosse rimasto insoluto.